Siamo contenti della soddisfazione, siamo soddisfatti della partita che non era semplice Alla fine abbiamo fatto 4 gol e penso che è stato il risultato più giusto Sì, soprattutto l'importante era comunque, erano sempre i tre punti Il campionato si sta avvolgendo verso la fine, non dobbiamo molare nulla Anche perché sappiamo che un passo faccio comporterebbe la compromissione del campionato Quindi, giocando bene o giocando male, oggi servivano i tre punti